Era meglio prima, perché noi diciamo sempre che è meglio quella di prima. Qualunque, mio nonno è un fenomeno in questo, diceva che erano belli i miei tempi, si stava meglio quando si stava peggio, c'erano le cose che ce le sudavamo, noi invece il pane lo facevamo col sudore della fronte, nonno che schifo, metteci l'acqua. Dice, no, noi non buttavamo mai niente, voi buttate tutto. C'era una cosa che avanzava a pranzo, la friggevamo. C'era il broccolo bollito, la sera facevamo il broccolo fritto. L'indomani avanzava il broccolo fritto, facevamo la pasta col broccolo fritto. Avanzava la pasta col broccolo fritto, facevamo la pasta fritta col broccolo fritto. Avanzava la pasta fritta col broccolo fritto, l'indomani facevamo un timballo di pasta fritta, avanzava, facevamo l'arancina fritta col broccolo fritto. Che c'era da buttare? Che avevamo da buttare? Il fegato, nonno, perché se consideri così non... Non funziona.